Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Brawl Stars Arriviamo a 300 like, condividere il video, iscrivervi al canale di 6 nuovi, lasciate il hashtag Brawl Stars Con soltanto i commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con la nostra Iron Man Challenge ragazzi Mordughino ha fatto qualche partita off camera in raffagemmi E ha perso quasi tutte le partite perché trovava dei bull che rimanevano fermi E la gente che si tuffava nei jump in automatico Quindi andremo a recuperare un pochino di coppe se ce la facciamo Andrò a fare le sopravvivenze così almeno gioco da solo Cerco di rimanere vivo almeno fino al quinta posizione Così prendiamo qualche coppa E poi cerchiamo se ce la facciamo di arrivare almeno alle ultime posizioni Quindi un po' di camperaggio, un po' di potenziamento, un po' di tutto il resto Perché comunque ricordatevi che questo personaggio è livello 1 E ha molta debolezza in confronto ai suoi avversari Ma andiamo in gioco in sopravvivenza Abbiamo le lande tempestose direttamente con i robot incavolato Sarà divertente Si parte con la prima ragazzi Vediamo di recuperare se ce la facciamo qualche maledetta coppa Anche perché c'è gente che rompe già le scatole Morduchino non può far niente perché Se pare che mi possa avvicinarla con tranquillità No, arriverà sicuramente qualcuno a rompere le scatoline Tipo quel bellissimo là Ecco qua Abbiamo già il tizio che rompe E non è uno Cioè non mi hanno fatto prendere neanche una cassa Ci credete? Già è lento di suo, no? E dai, lasciatemi una cassa Vaffanbeccolo, regà Vaffanbeccolo No! Posto, abbiamo perso, sono morto Non è vero, sono ancora vivo Per poco ma sono ancora vivo Ok, mi faccio un po' di camper Allora c'è il robottino La vannascia è proprio lì a fianco Ho rischiato di avercelo io addosso E vaffanbeccolo però Per i comandi ci si mettono a dare una mano Ok Vediamo un po' che riusciamo a combinare Allora Quello è circondato dal robottone Questa cosa a noi ci piace Da un punto di vista Dall'altra no Perché il robottone è potente E siamo in seguito di noi Quindi Siamo tra i quattro brawler rimasti Però Perfetto Sì, sì, attaccalo Che mi dai una mano Grazie Ok, questo è mio No Dai, sei cattivo Vabbè Sono arrivato terzo insomma Quindi prendiamo qualche punto Ce lo date Più quattro E ci riproviamo Sperando che stavolta me le lasciano Ducasse Dai, vattene Guarda che rompi In pratica sono morto Però In teoria Potremmo fare qualcosa Niente Questo viene a rompere Le scatole a me Tanto Questa viene a fregasse La cassa a me Io posso di niente Mi devo da Questo personaggio Depotenziato Già da solo Non è così Veloce Ecco Forse riesco a prendere Un energy Se bombardino Non mi rompe le bolze Appunto Quello che stavo a di Allora Abbiamo Questo grosso problema Di essere delle nita Depotenziate Con un energy Facciamo le breccole Alla gente Cioè proprio Gli facciamo L'acqua colorata Dietro al collo Non l'ho preso Non so perché Anche perché Sta là dentro Lo so Ok Il robottone Va addosso Al cult La gente La gente va addosso Al robottone Di cult Perché vuole Prendersi I punti Basta inseguire La gente Forse riusciamo A recuperare Anche qualche cosa Bella Per te Bella cult Che se dice Arriva Ombrosa Ok Quel cult Sta per morire Malissimo C'è la gente Lì No no Morio io Paura Ok no Stava per morire Lui però La cosa era divertente Se succedeva Eh non ce l'ho fatta Mi sono fatto prendere Dalla paura Perché comunque È molto più grosso Di me 9 e 8 Regà 9 e 8 Cioè Stiamo scherzando Che gli dico a quelli Li guardo in faccia Li saluto Sono terzo Eh per carità Quindi qualche punticino Ce lo portiamo a casa Spero che il robottino Gli vada fastidio a lui Così almeno Arriviamo un po' più in alto Non mi funziona il joystick Un'altra volta Scatole Scatole Ok Dai è così Quello sopra sta venendo In pratica Ucciso Ok Possiamo infastidirli Mentre combattono Taglie Vai da lui Ti prego Sì Eh no Mica tanto Sì No Ma si è girato Verso di me No Ho fatto la cavolata Sono morto Sono arrivato secondo Però Dai sto recuperando Tutte le coppe Che mi sono perse Una raffagemme Questa è buona Allora lì c'è il bull Dai ti prego Lasciamela a me Sta roba Ti prego È mia Ok Il bull è fk Spero che sia fk Non lo sta a fa apposta Ok Stai fk Regà O non si è accorto Di aver iniziato Dai che ci fregamo Un po' di energy Ok Sì 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 Abbiamo un RG a gratis Yeah Questa cosa ci piace Ma anche un po' Cattivella Ok Un po' di colpetti Piatele da l'orsacchiotto No Quello c'ha Sette energy Regà Mamma mia Già c'è gente con Sette energy Sto per morirci Non è vero Oh il bull Va per fare una finaccia Quel bull Va per fare una finaccia Non è finita qui Finaccia del bull Che sta ancora Facendo una finaccia Comunque un 7 Però Sto dove è il robottino E dove sta nascendo Non venire da me Bravo Allora Beat ha ucciso l'altro Il primo sta qua Con 5 energy Ho tirato l'orsacchiotto In maniera veramente scema Potevo metterlo A mano libera Ma non lo fa Ah questo c'ha 9 No regà Siamo morti uguale Però almeno arriva Secondi come prima Non sarebbe male L'orsacchiotto Dell'altra nida Fatto da Da blocco Per il robottino Quello è inseguito male Da robottino E anche da noi Stiamo davanti A dar fastidio Perfetto Abbassiamolo Perfetto Non è vero Sì è perfetto invece Zitti zitti Che è perfetto Morduk è un 6 energy Oh miseria E per sbaglio Ho tirato la super Non so come è successa Sta cosa Allora Dimmi che robottino Va da loro Sì sta Nasce proprio da loro No Da chi andrà Ok da lui Da lui Da lui Da lui Da lui Da lui Mamma mia Che muore No Ma hai lasciato Quello bottino In mano No Muoio Pazzesco Ok se ne fa un'altra Ragazzi Non so manco Come Morduk C'è riuscita A fare una cosa Del genere Non lo sa manco Mordukino In verità Eh no Mi sa che non lo rompo Un tempo Lo rompe prima Bull e poi mi rompe le palle A me Immaginavo Dai però Sei una persona brutta Bull E' veramente una persona brutta Una brutta persona Sono una povera Anita Che ci prende le botte Da una vita Grazie di rompermi la cassa Anche se non la prenderò Invece la prendo Mi do Ok vai dall'altra Shelly Ti prego Niente C'era un'altra Shelly 6 Sarebbe stato molto carino Se ci andavi Beh è così Bravo No mamma No Che cuore Che c'hai Oh robottino Sta in seguire Una delle due Shelly Quella più forte Chiamogli a da fastidio No Non sta dalla Shelly Si sta dalla Shelly Invece Dalla Shelly 6 Contro l'altra Shelly 6 Che si combatteranno Anzi Shelly 8 Contro Shelly 6 Vince la Shelly 6 Che diventa una Shelly 9 Mamma mia Brutta situazione C'è sta quest'altra Stiamo in tre Non sto messo bene per niente E Quella si è messa là dentro Con tutta la torretta Ma ho fatto quasi Allora Carichiamo un po' di vita Oh Ho rivinta un'altra Non sa manco Morduk Come le sta a vincere In verità Te lo dico Non lo so neanche io Come le sta a vincere Ah Carl Colt Ciao colt Ciao colt Ciao colt Mori colt Ok Abbiamo fregato un colt Quindi già C'è una persona di meno Su brawl Che devi fa? Ok Lo faccio infastidire Dall'orsacchiotto Bene No No bull No bull No bull Scherzavo E mi si è fregato la cassa Tu un altro Carl Colt Un altro Carl colt Che fai? Te ne vai? Eh si Si sta pure a recuperare la vita Io mi do Che devi fa? Tino Tino da un pezzo Ah vai Vatti a mettere là dentro Ti è bloccato il joystick Giustamente No robottino da me No te prego Vai via Vai via Mordug Così te voglio Aia No ci muoio Mi sa Non è vero eh Però Ho rischiato parecchio No e te pare Mi faccio acchiappare così E mo Addirittura Ok la si sono ammazzati bene Ciao Shelly Ciao Shelly Ciao bull Ciao bull Vieni qui bullino Vieni Si Quanto gongolo Portugino c'ha 4 energy E non sa neanche lui Come se ne è approfittato Di questa cosa Ok Questo sta laggando Poverino mi sa Mi dispiace per lui Siamo rimasti in 3 E c'è il Il colt lì Povero colt Ok Allora Questo me lo porto io a spasso Se ci riesco Mi potenzio E No No c'è lui Vai Orzacchiotto Pensaci tu Bravo Orzacchiotto Grazie No No Ce l'ho ancora addosso io però Robottino No Ha vinto lui Ha vinto lui Perché robottino È un fastidio Incredibile Niente Secondo Ci accontentiamo Ok Ho recuperato un po' di coppia Sono ritornato sulle 609 totali 269 Quindi abbiamo fatto un po' di recupero Avriamoci le casse Anche se non servirà Vediamo un po' se ci esce qualcosa di carino Anche giusto per dire Wow C'ho qualcosa di carino Che non posso usare Vai Wow Quanti bei ticket Che bellezza Anche la cassa grande Wow Altri ticket Dovrò fare prima o poi Nella Blue Iron Challenge Un po' di ticket Sprecati Assolutamente Ma va bene ragazzi Questa era la puntata di oggi Abbiamo recuperato un po' di partite In sopravvivenza Siamo andati molto bene Stranamente Arriviamo a 300 like Condividete il video Iscrivetevi al canale E se no Lascia il hashtag BlueStars Qua sotto nei commenti Per ricevere un quale cino E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video